Sì, sono arrivate, sono accolte dalla città e dalla chiesa di Firenze e anche a questo punto dalla nostra parrocchia qua, perché sono arrivati per partecipare alla liturgia, ma per avere, direi, il primo contatto con la nostra realtà, diciamo abbastanza importante e forte a Firenze, siamo da vent'anni qua. E allora cercavano loro, i loro amici, questo primo contatto la domenica oggi per venire qua da noi. E noi siamo qua, siamo disposti ad aiutare per quanto ci sarà possibile. È molto difficile che qualcuno ti imponga di dover lasciare il tuo paese di punto in bianco. Un milione di persone sono in fuga da un paese sotto le bombe. Il popolo italiano si sta dimostrando un popolo estremamente generoso, a disposizione, che costantemente sta chiedendo come si sente, quello che possiamo fare. Gli aiuti umanitari sono incredibili, quelli che ora sono, grazie alla misericordia, alla Mercafir, e che veramente, soprattutto qua a Firenze e in Toscana, abbiamo una popolazione molto sensibile a questo problema.